Ad alcuni nomi, a nomi di regioni piuttosto lontane anche dall'Italia, ci siamo abituati recentemente, un tempo erano nomi strani che forse ricorrevano in qualche reminescenza della letteratura ottocentesca russa, recentemente li troviamo sempre più spesso nei nostri giornali, li troviamo nei media televisivi, in vari strumenti di comunicazione, Cecenia, Inguscezia, Aussezia, Abkhazia, tutte regioni che evocano in qualche modo conflitti, difficoltà, sono tutte collocate nella parte nord del Caucaso, il Caucaso è stato da sempre un luogo di transito e di necessario controllo geopolitico tra l'Asia e l'Europa, è oggi un luogo di transito, di olodotti, di vie di comunicazione, ma soprattutto di vie energetiche e in queste regioni con un'asperità del terreno particolare, denso di montagne molto alte e anche di pianure estremamente vaste, in queste regioni si annidano dei conflitti dell'epoca recente che ormai cominciano ad avere quasi una ventina d'anni. La Cecenia, la Cecenia è collocata appunto nel nord del Caucaso, se immaginiamo di provenire dal Mar Caspio e di andare verso il Mar Nero, troveremo prima il Dagestan, poi la Cecenia, poi l'Inguscezia, poi troviamo la Alenia o Ossezia del nord, in stretta comunicazione con quella parte del sud del Caucaso, formalmente in Georgia, ma che si è autoproclamata lo scorso anno, nel 2008, indipendente, che è l'Ossezia del sud. Poi andando avanti abbiamo il cabardino Balcaria, la Circassia e via, continuando con regioni di questo tipo. In Cecenia si è annidato uno dei conflitti più gravi, più feroci, più cruenti dell'epoca recente ed è scoppiato all'indomani della fine dell'Unione Sovietica, quando la Cecenia stessa ha cercato di ottenere l'indipendenza, di rendersi non più regione autonoma, così come lo è sempre stata, ma federata, ma di rendersi invece del tutto indipendente. E per una Russia che aveva visto diminuire il proprio terreno in maniera consistente dopo la fine dell'Unione Sovietica non era possibile perdere non solo quelle che erano le repubbliche che facevano parte delle 15 dell'Unione Sovietica, ma anche quei territori e quelle regioni che facevano parte proprio della madrepatria russa. E per questo è scoppiato il primo conflitto ceceno, il primo conflitto che è andato dal 1991 al 1996, un conflitto iniziato da Boris Yeltsin e concluso nel 1996, concluso con una nuova presidenza cecena, formalmente abbastanza autonoma, abbastanza indipendente, che tuttavia ha successivamente cercato la via dell'indipendenza totale e questo ha aperto al secondo conflitto, il conflitto questa volta iniziato da Putin dal 1999 e formalmente finito nel 2006. È un territorio quindi che già di per sé si presenta complesso, ma che in più ha visto la complessità aumentata dal fatto di essere un crocivia non solo di comunicazione, ma anche di ingenti trasferimenti di energie e ingenti trasferimenti di materie prime. Grazie.